la cosmologia nei maia i maia erano eccellenti astronomi stelle e pianeti condizionavano quasi tutti gli aspetti della vita sociale e religiosa di questo popolo dei re erano strettamente associati ai pianeti il movimento degli astri suggeriva di iniziare una guerra ad esempio di sospodestare un re di compiere un sacrificio se necessario senza l'ausilio di strumenti ottici i sacerdoti astronomi erano in grado di calcolare in modo accurato la durata dell'anno stabilendola 365 giorni con un margine di errore di solo 19 minuti nella maggior parte degli edifici e monumenti dei maia erano disposti sul terreno secondo dei calcoli ben precisi astronomici un esempio significativo era quello del complesso monumentale di paleneguo all'interno del tempio con diverse iscrizioni si tratta della tomba di pakal il re maia dell'epoca tarta classica circa 640 avanti cristo qui il sole tramonta esattamente dietro il tetto dell'edificio nelle giornate senza nuvole quando il sole si muove nel cielo la luce filtra attraverso aperture appositamente progettate che illumina l'intero muro dell'edificio e quando si inizia ad abbassare il sole la luce sembra di scendere i gradini che portano alla tomba del re pakal questo fenomeno vuole simboleggiare il piaccio del defunto verso il mondo trotterraneo dei morti